Una delle ragioni per cui Putin ha scatenato questa guerra è il voler essere riconosciuto la Russia, volere che la Russia sia riconosciuta come grande potenza globale. Dopo la caduta del muro di Berlino per un decennio c'è stato un grande declino della Russia, lo sappiamo, poi dall'inizio degli anni 2000 la Russia piano piano ha riacquisito un ruolo sulla scena mondiale senza però ritornare ad essere la potenza che aveva quel ruolo nell'epoca bipolare, anche perché il mondo è un altro. Questa ansia di voler veder riconosciuto nuovamente un ruolo di potenza alla Russia è cresciuto ancora di più in presenza della crescita della Cina, perché se un tempo il duopolio era Washington-Mosca, oggi il duopolio è sempre di più Washington-Pechino e quindi la Russia si sente stretta e quindi Putin ha pensato con un atto di forza di dimostrare che in realtà bisogna fare i conti con la Russia. Secondo me ha fatto male i calcoli perché per vedersi riconosciuto come potenza l'ultima cosa che è utile è scatenare una guerra.